Ciao raga bentornati sul mio canale youtube, oggi videone, infatti vi porto la prima delle due partite che andremo ad analizzare che ho giocato contro Fabio Denuzzo quindi ce le andiamo a guardare tutte e due per intero per andare a capire quali sono bene le situazioni di gioco e le dinamiche nonché le meccaniche di questo FIFA 21 e nulla quindi senza perderci troppo in chiacchiere andiamo con la solita transizione pulitissima eccoci qua e ci ritroviamo subito sulla schermata della partita, potete notare il mio nick esotico di quest'anno però facciamo finta che sia tutto regolare abbiamo giocato in settimana, fa tutto parte dell'allenamento che stiamo facendo un po' tutti in vista delle VL, in vista dei prossimi impegni che ci attendono e nulla, eccoci qui finalmente dunque in game, batto io, switch immediatamente sullo stile di gioco difensivo che è appunto il mio modulo 4-4-2 cerco immediatamente di fare un po' di giropalla anche cercando di sfruttare quella che è l'inerzia del kickoff, la sapete dunque un po' come l'anno scorso, la dinamica d'attacco non è cambiata, sempre pazienza dall'esterno verso l'interno, qui subito cerco di girarmi con un elastico che magari quelli che non passano in live da un po' avranno perso la mia metamorfosi ormai ho detto addio ai drag back e benvenuti agli elastici vedete qui la fase di non possesso quest'anno, bisogna switchare tanto, switchare tanto perché i mediani sono molto passivi cercare di non uscire troppo a cannone altrimenti vi si buca con un filtrante in maniera molto semplice vedete anche lui qui come gioca in maniera molto paziente, potete notare i suoi gullit vi irà giganteggiare in mezzo al centrocampo qui è bravo a servire Cruyff ma con Van Dijk riesco a fare un'ottima chiusura aiutato anche dal posizionamento autonomatico di Virgil che quest'anno fa tanto la differenza allora cerco di ripartire come vedete sempre con pazienza dall'esterno verso l'interno cerco di chiamare in causa Pogba, motivo per il quale lo preferisco rispetto a un centrocampista solo difensivo in maniera tale che appunto posso giovarne anche in fase di impostazione vedete limite dell'aria per cercare di liberare le due punte in aria passaggio che finalmente arriva con uno scoop turn di prima di Cristiano Ronaldo a fulminare il portiere sul primo palo, tiri sul primo palo che quest'anno non è che vanno alla grande però se fatti in un certo range dentro l'aria e soprattutto dopo una skill sono ancora molto efficaci secondo me quindi dategli un try a questa tipologia di tiro vedete lui come cerca subito di ripartire, qui io mi trascino Pogba con la forza a difendere guardate lo switch frenetico a cercare di fare densità lì in mezzo e coprire le linee di passaggio perché alla fine giocavamo a specchio tutti e due 4-4-2 alla fine la costruzione della manovra è quella si cerca di passare palla a una e due punte in aria vedete qui come riesco a chiudere perfettamente peccato che poi se medo si porta la palla fuori qui cross da calcio d'angolo quest'anno molto pericolosi una carambola lo favorisce ancora da calcio d'angolo stavolta la batte corta una routine diversa ci sta a variare la battuta del calcio d'angolo per cercare di sorprendere l'avversario palla fuori, palla dentro vedete addirittura con Virgil ad impostare qui poi Gullit allarga verso Mbappé palla ancora per Gullit scivolata a cannone di Mendy scivolate che a me piacciono tanto quest'anno per chiudere in fase difensiva però occhio perché spesso e volentieri se ne combinano bisogna masterarle bene ancora battuta corta per lui d'angolo prova una crocchetta con Mbappé chiuso due volte con Blanc anche su Ronaldo Blanc che mi sta piacendo davvero tanto e vedete come è fondamentale quello che è l'apporto della mediana alla fase difensiva e appunto però dovete essere voi bravi a ricamare e portare i difensori io volevo dire i centrocampisti a difendere qui cerco l'imbucata sulla fascia per Mendy questa è una fase di gioco un po' più favorevole a lui vedete ha preso un po' più in mano il pallino del gioco però diciamo che è un rischio controllato perché quest'anno a me piace più cercare un'azione diretta piuttosto che avere troppo la palla tra i piedi quindi bisogna anche saper soffrire come nel calcio vedete qui ancora un'ottima difesa con Virgil poi una carambola fastidiosa lo favorisce ma Mendy completa il recupero palla vedete poi come cerco subito di ripartire sfruttando quelli che sono i fratelli rapidi tra le mie due punte poi cerco l'imbucata larga su Neymar che effettivamente è a campo poi mi rifugio su Mendy ancora una volta il pattern lo vedete è quello cercare di liberare raga le punte all'interno dell'area vedete qui gli scambi rapidi tra Mbappé e Pogba però purtroppo Gullit è un treno qui doppio passo di Ronaldo Varane non c'ha bocca io qui adesso a rivedere questa azione avrei potuto servire palla sopra per Neymar qui avevo fatto un bel gol ma purtroppo Mbappé era in fuorigioco skill che come vedete quest'anno dentro l'area sono per me fondamentali e ve lo dice uno che ha sempre skillato poco quindi c'è poco da fare dovete mettervi e impararle per me ancora vediamo lui che prova a ripartire palla per Gullit l'ambulanza che passa e ci viene a fare compagnia come al suo solito manovra molto ragionata con Cruif che passaggetto doppia premia l'inserimento di Ronaldo e mi buca per la rete che vale l'uno a uno doppia che come sapete vi fa fare questo passaggio diciamo a scavetto che è molto insidioso per la difesa nonostante io appunto stessi difendendo in maniera manuale sono stato punito visto che Van Dijk ha fatto un'animazione strana e è andato a vuoto qui cerco subito di sfruttare l'inerzia positiva del kickoff senza però riuscirci e Blanc commette fallo su Gullit dando la possibilità al buon Fabio di ripartire stavolta lui che aveva prediletto l'azione dall'altra fascia cerca di agire anche lui da fascia sinistra scambio tra Ronaldo e Cruif buono guardate qui come chiudo però alla perfezione con Varane senza boccare sfruttando l'L2 una chiave anche questa della fase difensiva è il temporeggiare bene senza uscire troppo in maniera frettolosa altrimenti è un attimo che il difensore va fuori tempo quest'anno e l'attaccante rapidamente lo può andare a punire qui continuo a fare il mio solito gioco vedo Neymar in una posizione favorevole col Pogba poi servo Ronaldo serie di doppi passi palla ancora fuori per Pogba trappola del fuorigioco per lui palla poi dentro per Ronaldo si gira che si caga un gol abbastanza ambiguo nonostante di sinistro ce lo possiamo aspettare quest'anno sono errori che questi che Ronaldo non fa quindi qui ero rimasto abbastanza abbastanza perplesso ma diciamo che ci può ci può anche stare vediamo lui come cerca di ripartire qua io sbaglio con Virgil avevo calcolato male la traiettoria della palla e vado praticamente a vuoto quindi non bene palla poi scambiata tra Neymar e Gullit ancora Gullit dentro verso verso Ronaldo ma Varane ottimo intervento anche questo qui manuale a togliere la palla dai piedi del suo attaccante quindi prima frazione di gioco che si conclude sul risultato di 1 a 1 una frazione di gioco combattuta che forse avrebbe potuto vedermi in vantaggio se Ronaldo non avesse sabotato quell'azione offensiva costruita in maniera certosina ma fa parte del gioco quindi adesso seconda frazione di gioco tutta quanta da vivere come potete vedere stavolta l'inerzia del kickoff cerca di sfruttarla lui infatti cerca di riversare quanto più possibile giocatori nella mia metà campo ancora una volta azione solita ragazzi dalla fascia verso l'interno vedete lui come è bravo sempre a mandarmi a vuoto lì sulla fascia a tornare indietro io però capisco tutto poi per zona centrale recupero palla qui con Blanc ritardo probabilmente di un pelo l'1-2 perché altrimenti Ronaldo sarebbe stato solo qui però ottima la costruzione di manovra con Mané che si rifugia nuovamente sul Ronaldo palla per Mbappé Mbappé serie di numeri doppio passo ad andare indietro doppio A per Ronaldo Ronaldo al limite dell'area una Veronica una finta di tiro parla ancora per Mbappé scoop turn tiro gol un'azione un po' insomma faticata però con una serie di skill per cercare di mandarlo fuori tempo ci siamo riusciti quindi risultato di 2-1 con questa bella conclusione incrociata di Mbappé nuovamente riparte Fabio sempre sulla fascia laterale parla per Vieira palla poi scaricata per Cruyff insomma cerca di andare a rimontare immediatamente palla per Mbappé Semedo ancora Mbappé come al solito ragazzi vedete come manovra per cercare di aprire gli spazi ma qui è ottimo il mio pressing con Pogba a recuperare palla e lanciare questo contropiede con la palla lasciata in fascia verso Mbappé scarico verso Pogba qui l'azione è proprio delle migliori vedete qui come riesco piano piano a costruire un po' di spazio centrale palla ancora verso Pogba lui con Gullit è bravo a chiudermi lo spazio però ancora Blanchi in maniera paziente ecco qui lui poi sbaglia l'intervento con Semedo passaggio con Doppia perché aveva Varane selezionato sapevo che sarebbe andato in avanti e non l'avrebbe preso palla del 3-1 siglato da Cristiano Ronaldo che va in qualche modo a riscattare l'errore commesso in precedenza quindi siamo intorno al sessantesimo solitamente questa è una fase della partita nella quale subentra un po' di gestione chiaramente da parte di chi è in vantaggio mentre da parte mia inizia probabilmente quello che è il festival dell'orrore vedete qui come con Pogba avevo recuperato palla ma quest'anno purtroppo ero in palli sappiamo come sono Marci ancora con Semedo avevo recuperato palla niente non la si riesce a togliere prima di togliere palla devi praticamente fare un contrasto 829 volte palla lui qui per Ronaldo ancora un ulteriore rimpallo però è ottima è ottima la mia difesa con Pogba però sbaglio il passaggio in uscita e a proposito di Carnevale proprio di questo di quello che appunto stavo andando a parlare però anche qui ottima chiusura di Virgil al limite dell'aria vi dicevo di quell'errore in uscita errore in uscita che spesso e volentieri sono dettati un po' dalla foga anche un po' dallo stress e dal nervoso di una partita così tirata ma è un errore che non va affatto assolutamente qui sbaglio ancora una volta un passaggio stupidissimo in uscita dalla rimessa laterale Neymar al limite dell'aria palla per Ronaldo ancora palla per Neymar che scarica un missile sotto l'incrocio e qui un errore da parte mia gravissimo che mi fa subire gol quindi risultato di 3 a 2 quando mancano 20 minuti alla fine nel buon Fabio si rifà sotto ancora perdo una sanguinosissima palla dopo il kickoff quindi il mio kickoff praticamente viene ribaltato diventa il kickoff per lui palla per Mbappé cerca lo scambio rapido con Ronaldo 1-2 qui ottima la chiusura di Virgil che però ancora una volta non riesce a completare il recupero perché il contrasto favorisce l'attaccante avversario però fortunatamente poi con Pogba recuperiamo ma guardate qui ancora una volta un altro passaggio sbagliato da Mbappé in fase d'uscita qui però subentra anche un po' di dubbio se sia stato effettivamente un passaggio sbagliato da parte mia o il gioco che mi abbia agganciato male qui bravo a liberarsi con Cruyff prende un palo pazzesco però qui tiro un sospiro di solivo perché dico porca miseria non è possibile che sto sbagliando così tanto in uscita qui sono bravo a lanciare Mbappé in campo aperto lui è altrettanto bravo a spendersi l'ammunizione perché io stavo per passare filtrante a Neymar e probabilmente mi sarei ritrovato due contro uno con Neymar e Ronaldo punizione cerco di costruire al limite dell'aria qui un rimpallo che mi favorisce cerco il reverse elastico vengo rimpallato però da Virgile nella conclusione Blank sbaglia questo passaggio che viene intercettato da Gullit e allora quando mancano ormai dieci minuti alla fine della partita abbiamo questi ultimi scampoli di frazione di gioco dove appunto Fabio cerca di rimettersi in carreggiata vedete la classica azione con Mbappé che retrocede verso Vieira con un buon gioco di gambe Vieira riesce a trovare Cruif poi serve Gullit palla dentro per Mbappé per la rete che vale il 3 a 3 bravo bravo qui Fabio ad aprirmi la difesa io lento nello switch ma tutto nato da un passaggio errato di Blank in fase di impostazione infatti mi sono mangiato le mani qui con Pogba cerco la cavalcata solitaria perché infatti mi aspettavo che lui non si aspettasse questa corsa infatti riesco a prendere campo ma poi Pogba si infrange sulla difesa avversaria palla però che viene recuperata con Ronaldo cerco di liberarmi al limite dell'area una serie di numeri scoop turn reverse elastico qui ottima la sua chiusura con Varane perché stavo per tirare probabilmente sarebbe stato gol ultimi 5 minuti vediamo la ripartenza da parte di Fabio con Gullit stavolta anche lui cerca un'azione un po' più dritto per dritto con Ronaldo che saggiamente non serve Gruff che era chiuso con il difensore palla poi di nuovamente larga con Mbappé a seguire quello che è il solito copione con Virai e Gullit che si scambiano palla prima di cercare l'imbucata centrale verso Ronaldo verso Gruff che arriva ma Varane ottima ottima la chiusura qui ultime possibilità di poter concludere il match nei 90 minuti di gioco regolari con Pogba che cede palla verso Neymario palla per Mbappé buona la crocchetta qui a prendere campo ancora Neymar qui purtroppo i miei giocatori sono tutti in area marcati finalmente Ronaldo esce fuori dai blocchi ma ottima la sua chiusura quindi 3 a 3 risultato finale andiamo ai supplementari quindi partita che sarà giocata al meglio dei 120 minuti e non dei 90 partita che come potete vedere e come avete visto è stata sicuramente molto combattuta ricca di spunti appunto per quello ho deciso di portarvi l'analisi intera e non di tagliare solamente quelle che erano le azioni pericolose perché secondo me da queste giocate riuscite a rubacchiare con gli occhi quelli che sono un po' determinate dinamiche soprattutto in fase difensiva che mi state chiedendo tanto ultimamente e niente quindi ripartiamo con il match kickoff da parte mia con la palla che viene ceduta in fascia verso Mané abbiamo poi Blanc che manda al bar Rude Gullit palla ancora fuori il buon Polpo Pogba si gira palla che però gli viene rimbalzata via dai dai piedi abbiamo poi ovviamente il tentativo di ripartenza da parte del buon Fabio con Gullit io copro benissimo qui con Semedo quello che è l'inserimento di Neymar però poi qui sono un po' troppo pigro con i mediani vedete come mi sono ritrovato in questa situazione a dover selezionare subito i difensori e non è una cosa positiva allora lui ne può approfittare io con Semedo fortunatamente recupero un po' la posizione però guardate un po' qui la squadra come è sgangherata palla per Cruyff palo pazzesco però qui avrebbe sicuramente meritato il gol perché io avevo tirato fuori la mia squadra troppo e lui aveva stato bravo a sfruttare questa cosa di conseguenza mi sono salvato solamente grazie all'errore dell'olandese pausa per il buon Fabio che cerca di raddrizzare qualcosa a livello tecnico non ricordo se ha fatto una delle sue classiche giocate mandando a quel paese il buon Cruyff che si era reso colpevole di quell'errore io devo dire la verità non opto per nessun cambio visto che fondamentalmente i miei giocatori si stancano comunque non tantissimo e sono troppo più forti rispetto ai Super Sub che al momento posso permettermi comunque no Cruyff lo vedo ancora in campo quindi magari sarà stato solamente qualche accorgimento tecnico qui errore altro grave da parte mia perché non posso cercare un'avanzata del genere con Blank che ero marcato avrei dovuto scaricare palla offro il fianco a quella che è la sua a quella che è la sua ripartenza quindi palla per Ronaldo ottimo l'elastico da parte sua viera ancora per Ronaldo gran gol questo gran gol questo da parte sua con la rete di Cristiano Ronaldo che gli vale il 4-3 al centesimo minuto io ovviamente non demordo perché a parte che non bisogna mai mollare la partita è finita quando l'arbitro lo decreta e poi soprattutto partite di allenamento sono fatte appositamente per migliorare quindi non c'è non c'è bisogno di nervosirsi e di gettare la spugna ma appunto è il momento di poter provare quelle che sono dinamiche e situazioni di gioco vedete qui come Blank aveva imbucato perfettamente per Mbappé ma è provvidenziale l'intervento del suo difensore a recuperare una palla che sarebbe stata pericolosissima perché da lì palla Mbappé elastico probabilmente mi sarei ritrovato davanti alla porta solita azione che ormai avete visto in questa partita palla per Mbappé in fascia con Fabio che cerca poi di accentrarsi su Viera Gullit stavolta si è un po' allontanato e quindi non offre grosse opzioni di rimorchio qui cerca la palla per Cruyff ma avevo capito tutto posizionandomi appositamente con Van Dijk lì la recupero e cerco di ripartire primo tempo supplementare dunque che si conclude sul risultato di 4-3 per Fabio ultima frazione di gioco prima di eventuali rigori che si inaugura nuovamente con Fabio in possesso palla qui anche secondo me sbaglia lui con questo driven pass forzatissimo che Mbappé avrebbe meritato di intercettare ma che purtroppo per molti motivi tra cui il suo dormire non prende qui guardate con Virgil come me lo tiro un po' troppo fuori però fortunatamente il suo tentativo di cross è sbagliato Semedo però decide di fargli un regalo qui non so per quale motivo non ha chiamato rigore visto che ormai chiamano rigore su questo gioco per qualsiasi cosa ovviamente quando accadono nella mia area di rigore le situazioni e che altrimenti sognatevele palla per Pogba che cerca di portare sulla squadra alla ricerca del pari Neymar ancora per Ronaldo guardate qui ottimo l'elastico parla per Mbappé il colpo di tacco Ronaldo si è cagato un altro gol pazzesco di sinistro fa un po' il pari con quello che è il gol che si è sbagliato il suo cruif quindi diciamo che il mio Ronaldo e il suo cruif hanno fatto due erroracci pesanti a testa questo però probabilmente è più pesante perché sarebbe valso il pari a 10 minuti dalla fine di un tempo supplementare dove anche le forze mentali magari iniziano un po' a scarseggiare infatti qui io alzo anche un po' il pressing per cercare di recuperare palla mi scopro lascio spazio a quelli che sono i contropiedi del mio avversario che come al solito predilige la fascia destra per attaccare da dentro verso Viera verso Kulit vedete qui come switch in maniera affannosa tra Van Dijk e Blank recupero perfettamente palla perché Pogba si era messo a fare il difensore centrale visto che aveva portato fuori Virgil vedete come è un continuo switch tra due giocatori praticamente voi come se difendeste sempre con due giocatori e non con uno qui sono un po' fuori posizione ma ripeto ho alzato un po' il pressing per cercare di recuperare palla alto e creare qualcosa di un po' più pericoloso qui palla per Ronaldo la finta un po' fine a se stessa il reverso elastico che secondo me doveva essere un elastico vero e proprio Virgil non si fa abbindolare chiude tutto palla poi verso ancora Mbappé ottimo il numero cerca Neymar in fascia qui finta anche un po' inutile però premiato dal rimpallo ormai manca pochissimo devo cercare il tutto per tutto palla verso Blank ne approfitto visto che è bravo anche coi piedi qui cerco il mio solito speed boost palla che però finisce come direbbero in NBA out of bounds fuori dai confini del campo finisce qui il match 4 a 3 in una partita che devo dire è stata veramente tanta tanta roba e per quanto riguarda la prima analisi del match ragazzi io mi fermo qui ne ho anche un'altra di partita che vi vorrei far vedere però per il momento vi lascio con questa che è bella lunga ci sono pure i supplementari spero che abbiate compreso certe situazioni spero che la partita vi sia piaciuta nulla raga io vi do appuntamento qui sul canale con un prossimo video e vi auguro una buona giornata un saluto ragazzi ciao